Mi sono fatto l'idea che ci sono delle NG che fanno, come si dice, il loro lavoro, ci sono altre NG che evidentemente non lo stanno facendo, anzi stanno in qualche modo contribuendo, non so se volutamente, colposamente o dolosamente ad aggravare il problema del nostro paese. Andare a raccogliere migranti che partono su zatter e sgonfi a poche centinaia di metri dalle coste libiche non mi sembra un aiuto, né per quelle persone, né per il nostro paese, né per il sistema europeo, né per il sistema dell'integrazione. Serve cambiare modello, l'abbiamo detto più volte, il confine va spostato sulle coste dell'Africa e chi viene o chi non viene nel nostro continente deve essere scelto, deciso e valutato in quella circostanza. Le organizzazioni umanitarie a volte sono fatte da persone animate dai migliori intenti, altre volte probabilmente nascondono qualche interesse di troppo, però tuttavia non stanno facendo il servizio buono per il nostro paese e per l'Europa.